coach si riparte adesso la testa è per vincere questi playoff challenge sì non sarà non sarà molto facile visto che eravamo veramente vicini a passare il turno e giocarla alla pari praticamente con con trento quindi adesso bisogna ripartire chiaro che questo è lo sport e questo è la vita che devi sempre cercare di andare avanti per cui adesso continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso l'intensità è la stessa l'approccio è lo stesso e per cui in quel senso lì non cambia niente adesso vedrò di vedremo di magari di provare a dare un po più di spazio ai giocatori che che durante l'anno non hanno avuto tanta possibilità di giocare ma in ogni caso si scende sempre in campo per vincere questo è poco ma sicuro nello specifico che partita sarà con vivo noi intanto abbiamo una una trasferta bella lunga perché partiamo molto presto domani mattina arriviamo lì pomeriggio tardi perché non ci ha visto le vacanze pasquali la trasferta diventa veramente molto molto lunga è chiaro che vivo sta facendo una stagione da dimenticare per loro stanno cercando di come dire di trarre il meglio di quello che è possibile da queste due partite qua mi aspetto ovviamente come come sempre da ogni avversario con cui giochiamo che che giocano al meglio delle loro possibilità hanno hanno delle dei giocatori che che giocano a livello internazionale per cui sicuramente hanno hanno la qualità per per poter per poter giocare bene a palla a vola da qui a dire che sarà difficile sarà facile questo ce lo riserva il campo per cui mio mi aspetto sempre una partita difficile per cui se viene una che è molto più facile tanto meglio grazie a tutti